andiamo amici di naturalmente viaggiando benvenuti a una nuova puntata oggi ci troviamo a torreano in compagnia del buon stefano neve detto anche stefano zanutic com'è ste? molto bene, perché siamo nei boschi in bici va tutto bene dove ci stai portando di bello oggi? beh adesso come potete leggere qua siamo sul falco trail che si trova in località di torreano in triuli venezia giulia a pochissimi chilometri della città turistica di civilare siamo in provincia di udine al confine con la slovenia proprio pochi chilometri che caratteristica ha il sentiero su cui mi porterai? allora questo è il sentiero diciamo storico della zona chiamiamola bike zone di torreano nato e poi implementato negli anni ma credo già una ventina di anni fa comodi comodi è un sentiero molto facile che come vedrete adatto a tutti dai ragazzini di indici anni al signore settantenne con i bike andiamo com'è luca ti stai divertendo col frontino? siamo al top dice il rider che da Moimacco provincia da udine è qui a scannellare i sentieri di torreano linee a non finire totalmente studiate a tavolino per la velocità idonea da che vai? la chicken line ah la chicken line giustissima siamo qua all'imbocco del sentiero falco siamo all'imbocco del falco con Andrea che è un ragazzo praticamente local per che squadra corri? Federclub Tecnoedile di Trieste ti alleni spesso su questi sentieri? sono di casa quindi sì infatti lo vedremo andare giù velocissimo Andrea quanti anni hai? 17 e corri nel junior? junior primo anno alle andiamo vi invito a visitare la pagina instagram torreano bike land per avere maggiori informazioni sui sentieri se volete invece maggiori informazioni sull'ospitalità vi invito a contattare Natisone Outdoor l'associazione che si occupa della promozione del territorio infine ci tengo a ringraziare i Riders Brother Crew che sono una compagnia di pazzi trail builders con cui ho condiviso il weekend e che ringrazio per tenere i sentieri in maniera eccezionale e che ringrazio per tenere i sentieri in maniera eccezionale man runt' it! Runt' it! Run' it! Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stefano Poletti per il giorno 1 è tutto, a voi in studio.